Ehm... Sì? Don Salieri, ti manda il suo sacro. Il sospetto è un metro e ottanta, capelli scuri, nella media. Guarda quelli là. Via, 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 le riamacce dalle pala! Omicidio! Il sospetto è armato! Qui è l'agente Coxxx! Ho bisogno di rinforzare Gripit! E subito! Oh, quelli erano federali! Lo stronzo era davvero sotto protezione. Ed è famoso per omettere piccoli dettagli come quello. Magari non lo sapeva. Ora non importa, dobbiamo seminarli. Come on, let's go! Little heart! Let's go! 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 Let's go!